Riegoci insieme col Biancherosso TV Sport, il professor Antonucci è il momento di aprire il suo libro di storia e ci racconti tutto quello che sa su Bari Ternana. A proposito, prima di cominciare a fare questo revival, volevo dire al signor Luigi che ha telefonato l'altro giorno, che proprio stamattina la tipografia ha licenziato le ultime pagine del mensile e lunedì penso sarà in edicola, dove potrà vedere tutti gli acquisti e anche i riconfermati del Bari, anche con le rispettive fotografie, non ci sarà, come si chiama quello? Sana? Sana, sì. Che poi io ho le fotografie che praticamente aveva fatto già firmato insieme con Angelozzi, niente, niente, ma che è successo? Non idoneo, non idoneo dal punto di vista fisico. Mi dispiace perché sembra una persona, mi dispiace, mi dispiace. Allora andiamo avanti, andiamo avanti con? Allora sono esattamente 14 le partite finora giocate, 13 in B e una in C, quella in C è meglio non ricordarla perché non dico che come dice il cartellone c'è la vittoria della Ternana, la Ternana rubò, rubò per una sceneggiata del terzino ratti la partita e ora la vedremo via via che andiamo avanti. Comunque su 14 partite sono 8 vittorie del Bari, 3 pareggi e una sconfitta. O meglio, no, dico male, 7 vittorie del Bari, 4 pareggi e 2 vittorie da Ternana in B e 1 soldati in Serie C. Sì, va bene, andiamo avanti con le immagini. Questa è una delle vittorie per 2 a 0, il Bari guidata da Toneatto, bella fotografia questa, e segni due gol con Pienti che è quello al centro in ginocchio e con Marmo che è il terzo dopo Toneatto, Sega e Marmo. Senti Gianni, approfitto, tu parli di bella fotografia, non so di chi sia questa fotografia, però i fotografi storici del Bari, perché non abbiamo mai trattato questo argomento, oggi c'è la società delle immagini, delle televisioni, ma un tempo la fotografia aveva un ruolo straordinario per raccontare il caso. Guarda, io proprio ieri ho preso delle fotografie del 1936 e del 1947, quella del 1936 penso che la dovrebbe pubblicare la Gazzetta del Mezzogiorno in un articolo che io ho scritto, non so se esce domani dopo domani, quello che è stato il Bari durante la fiera del Levante, un fatto abbastanza simpatico, a me non lo ritengo tanto. Ebbene, io posso dire che i fotografi di un tempo, forse perché stavano più vicino alla rete, io ho la fotografia del gol di Capo Casale fatto il 3 gennaio 1937 di testa, una fotografia che oggi chissà che cosa si pagerebbe per avere, e io sono in uscita a pagare. I fotografi storici del Bari, quali sono stati? Prima di tutto è stato Ficcarelli con i suoi uomini, poi è stato Foto Iulia, Mastro Rilli, Foto Fiorito, questi sono i principali protagonisti della fotografia a Bari, poi sono venuti fuori anche dei direttanti come Mercoledì Santo e poi tutti quelli che sono, tutti gli allievi di Ficcarelli e tutti gli allievi, per esempio Lucature è un allievo, Corcello è un allievo di Ficcarelli, lo stesso che so io, quell'altro ora non mi ricordo. Io ricordo Armando, tante volte ho visto Armando. Armando è stato un isolato, non è stato un fotografo di grande qualità o di valore, è stato uno che si è fatto un nome perché era abbastanza... E però era un personaggio, perché correva con questa macchina fotografica, io ne ho viste di fotografie molto belle da Armando. La questione più significativa che l'ha reso popolare ad Armando è quella che era disponibile innanzitutto in tutto, e poi che quando il Bari aveva un rigore contro, lui che stava dietro la porta dell'avversario, faceva tutto in velocità scappando come un matto da una porta all'altra per andare a fotografare se il rigore in Bari lo segnava o meno, cioè l'avversario. Correva in campo, hai fatto. Hai capito? Che si era Armando? Armando Marulli. Marulli. Bari Ternana 1-0, l'entusiasmo di Casarsa. Questa è stata una partita bellissima, e qui oltre al gol di Casarsa, noi stavamo per retrocedere in Serie C, fece una grande, grandissima partita la portiere Mancini, Franco Mancini, il primo Franco Mancini, purtroppo anche lui l'ha ceduto anzitempo, e questo è l'entusiasmo di Casarsa per aver segnato il gol decisivo. Andiamo avanti. L'altro è Sigarini, giusto? Bari Ternana 1-1, Pellegrini, il primo gol lo fece Pellegrini, noi andammo in vantaggio 1-0 l'8 gennaio 78, e poi segnò il pareggio, la Ternana, mi pare con, non so come si chiamava, Cereso, Ceraso, anche così chiesto. Ti ricordi com'era forte Passalacqua la Ternana? Era forte? Sì, sì, non c'è male. Era un bel giocatore, infatti. Sono sempre più forte. Ecco, questa è la partita chiave. Questa è Bari Ternana, guarda, dalla gradinata buttarono una lattina, che colpì alle spalle il giocatore Ratti, che noi vediamo con il numero 2 a terra. Ma appena appena colpito, lui fece la sceneggiata, perché ora lui si accascia al suolo, questa è la prima fotografia che conservo. dopodiché nessuno ci aveva fatto caso, lui invece si è misa a gridare, e allora si fece soccorrere dal medico della Ternana e dal massaggiatore, non riusciva ad alzarsi, tu immagini, una lattina di latta, vabbè, ad ogni modo. Sì, si fece soccorrere dopo aver fatto la scelta. Ratti continua, addirittura che non ce la faceva neanche a mantenersi in piedi, fu accompagnato dal massaggiatore, dal medico della Ternana fino negli spogliatoi, poi l'arbitro intervenne, ora lo vedremo, i giocatori del Bari reclamarono che lui diceva per me la partita è chiusa perché è stato un giocatore della Ternana colpito, insomma, alla fin fine che cosa accadde? Che noi vincemmo 1-0 con un gol di Messina e la partita fu data perduta al Bari per 2-0 a tavolino. Vediamo un po', andiamo avanti con le immagini. Ci stava precludendo la promozione. Andiamo avanti con le immagini. Poi, ecco, questo è il 2-1 del 2 giugno 2002, il tiro di Mazzarelli e poi a destra le soldi è Armenis, però questa è una partita molto particolare perché come dicevamo sempre e abbiamo detto sempre, il mondo del calcio è stato più o meno quello. Qua c'era stato un tentativo di poter addomesticare perché il Bari era a centro classifica e ricordo che come allenatore tenevamo… L'ultima di campionato è questa, giusto? Perotti noi e Bolchi loro. Bravissimo, bravi. Allora che cosa accadde? Accadde che si era sparsa la voce che questi volevano alla partita, dicendo voi siete salvi. Allora Regalia prese Vincenzo Matarrese, Presidente, e la sera del sabato lo portò dove stava la squadra in ritiro e fece fare dal Presidente un discorso molto chiaro. Dice guarda che noi abbiamo saputo che ci potrebbero essere delle combine, sia pure a livello amichevole. Io voglio vedere l'impegno massimo. Possiamo anche perdere la partita, ma voglio vedere l'impegno massimo. Noi giocavamo quella partita all'insegna dell'impegno massimo, vincemmo perché se non prima Spinesi e poi… C'era Miccoli in Aternana, vero? C'era Miccoli in Aternana. Miccoli entrò nel secondo tempo e fece anche un scema, tanto è vero che anche Bolchi, io mi meravigliai, si lamentò, dice dopo tutto erano salvi da tanto tempo, il Bari era al centro classifico, ce la potevano dare, questo non dico proprio con queste parole il discorso di Bolchi, però la squadra rispose alle esigenze di Vincenzo Matarrese e Regalia poi fece un elogio anche a tutta la squadra e vincemmo 2 a 1, questo esattamente nel 2002. Qui invece c'erano delle sconfitte. Poi abbiamo qualche altra partita, quelle che perdiamo in notturna quando noi giocammo prima, segniamo prima con Spinesi e poi fumo superati 2 a 1 dalla Ternana, questa è l'ultima del 2003, la sconfitta in casa. Questa invece è la partita vinta a maggio del 2003 che De Rosse è solta dopo aver segnato il secondo gol alla Ternana, vincemmo 2 a 1. Poi c'è una delle ultime partite, l'ultima volta della Ternana a Bari esattamente dal 27 agosto 2005, quindi sono 7 anni che non gioca la Ternana a Bari e nella foto che noi vediamo è il primo gol segnato da Pagano, che oggi sta ancora in efficienza. Andiamo avanti con... Questa è l'ultima partita, l'arbitro Fabri è un altro esordiente, sono tre esordienti e ormai è nel vera... tre partite iniziali... Hanno rinnovato, hanno rinnovato i rangi arbitrati. Noi c'è un cognome che a noi non è nuovo perché noi abbiamo avuto Camillo Fabri che era di Castel Bolognese, questo è di Faenza, è un cognome tipicamente emiliano, del resto Mondino Fabri, fratello di Camillo Fabri, è stato anche direttore, commissario unico della nazionale, quella dei pomodori della Corea. C'è un amico in linea, pronto? Buonasera, saluto il conduttore, bentornato, bentornato anche al grande, al professore. Allora, professore... Che è successo? Allora, io ero un grande tifoso del Bari, ero un grande tifoso del Bari, pensi che mio padre, piccolino, a dieci anni, mi portava a Libertì, lei sa che cos'è Libertì, no? Qui a Carrassi, dove stavo una volta, e poi anch'io, che mio padre sono da tifoso del Bari. Dall'era De Palo, non so se penso che lei si ricorda, perché la memoria... Lui ricorda tutto, ricorda, tranquillo, ricorda tutto. Che cos'è che devo ricordare? Dall'era De Palo, vai al solo? Ti ricorda quando si contestava il professor De Palo, addirittura si erano fatti dei dispetti e cose. Io da allora non sono andato più al campo del Bari, ho lasciato Mugliese, con Florio Drogaci, quando si entramme nel campo. Florio Drogaci, lo striscione Florio Drogaci, te lo ricordi? Sì, nel 1900 è stato quando noi vincemmo il campionato di serie C. Sì, nel 1976, all'inizio ci fu, ma là mi pare che lo striscione lo preparava Gianni Avoruso, grandissimo tifoso di Bari, un amico degli sportivi, un vero tifoso del Bari. Questo è che io voglio vedere, ci sta quello, ci sta quell'altro, anch'io, tanta gente che non posso digerire del Bari, eppure io sono sempre più fedele al Bari. Una cosa è la fede del Bari, una cosa è i personaggi che ruotano attorno. Professore, allora arriva il dunque, io dopo ho capito che veramente De Palo voleva bene veramente al Bari, non lo faceva per interesse, mentre oggi non è così. E quindi io sono contento di essermi allontanato, però peccato che lascio a lei, perché io per lei forse potrei ritornare ad essere tifoso del Bari. Ecco perché non posso vedere più il Bari oggi. Va bene, grazie. Ricorda il nostro amico da casa che un tempo si contestava De Palo e oggi è pentito di aver contestato De Palo che a distanza di tanti anni ha capito che De Palo voleva bene al Bari. Perché poi quando è successo purtroppo la perdita, cioè che lui è deceduto, io ricordo ancora come oggi la scena di un tifoso che nella chiesa madre di Terlizzi si è buttato sulla bara e gridava professore, presidente, perdonami, sono stato un contestatore, non meritavi questo. E ho la fotografia io di questo, ho la fotografia. E poi la porti, dai, la porterai. Certo. Noi siamo ai saluti, l'ultima curiosità che mi devi togliere è questa, io sono convinto che Cepitelli fa un altro gol domenica con la Ternana, ma il cannonier, perché Cepitelli ha fatto due gol in due partite, no? Qual è il difensore che ha fatto più gol nella storia del Bari? Eppure lo conosci, si chiama Giovanni Oloseto. No, ma diciamo in un'unica stagione? No, in un'unica stagione, mi direi un giorno, in un'unica stagione, qual è il giocatore della difesa che ha fatto più gol? Beh, è stato proprio Detrizio. Ah, Detrizio. Sì. Quanti gol, signor? Quattro. Quattro? In una stagione. Però anche Dosanto si ha fatto quattro gol lo scorso anno, eh? Dosanto si ha segnato quattro gol. Vabbè, la prossima settimana mi dirai esattamente qual è? Eh, vabbè, tu sempre… gli altri si vanno preparando, io lo devo soltanto a memoria. Giovanni Oloseto, quanti gol l'ha fatto in una stagione? 13 o 12, o 12 o 13. Vabbè, vabbè. Allora, noi siamo i saluti, grazie professor Antonucci. A proposito, no, ricordiamo che lunedì c'è la commemorazione di… Scherzi, di Franco Mancini in fiera. Di Franco Mancini, che io praticamente ho sempre considerato una persona affezionata al calcio e alla serietà calcista, alla serietà calcista. Questa è la verità, che noi diciamo… Io la cosa che non vorrei, caro mio, non vorrei, che un giorno venisse a giocare a Bari, anche se da avversario Massielli, e lo applaudissero. Allora non ci vado più allo stadio, ti giuro, ti giuro. Stop, stop, grazie. Bianchi e Rosso, ultimo minuto, Radio Bari 88.8, fasi finali di Bari Ternana, poi il dopo partito con le voci dei protagonisti e poi le vostre telefonate. Lunedì mattina, ricordate, B&G Gang, abbiamo ricominciato da oggi con B&G Gang, con lo spazio anche dedicato al Bari, si comincia dalle 7.25 sino alle 9, ma ogni giorno si parla del Bari. Allora non mi dico, ritorniamo. Torri, ti chiamiamo, va bene. Bello, bellissimo. L'Hand Gang su Radio Bari. Ciao, buon fine settimana. Ciao, buon fine settimana.